Questa pianta bellissima che vi sto inquadrando, anche se non l'avete vista e non sapete che pianta sia, potreste dalle caratteristiche che si notano capire di che famiglia è. Infatti guardate il fiore, il fiore labiato e poi il fusto, il fusto è quadrangolare, vedete? Infatti questa è una pianta della famiglia delle Lamiace e è una melucella levis. È chiamata melucella perché l'inneo, la prima volta che la identificò, pensò che fosse originaria delle isole malucche, cioè dall'Indonesia, che è l'isola delle spezie da cui venivano importate tantissime spezie e anche tantissime specie particolari e quindi lui pensò che fosse delle isole malucche. In verità è una pianta originaria della Siria e della Turchia e spesso la troviamo adesso anche in Italia, soprattutto come pianta ornamentale. Si nota appunto il fiore, il fiore che è bilabiato, circondato da questo calice verde molto chiaro. Per questo motivo spesso viene chiamata anche campanella di Irlanda, anche se ovviamente dell'Irlanda non ha niente, però il colore chiaro ricorda appunto questi prati irlandesi e quindi da qua il nome, campanella di Irlanda. Dovremmo essere fortunati a vedere ecco qua anche i frutti, vedete lì in fondo, queste invece sono le foglie, foglie che si dispongono in maniera tipica come tutte le lamiacee. Eccolo qua, è una pianta bellissima e anche secca, rimane questo calice bellissimo che è proprio piacevole per creare ghirlande o tenerla semplicemente in casa. Ecco qua, qua si vedono meglio i frutti. Eccola qua la nostra melucella levis delle lamiacee.